ci siamo, momento del derby Torino-Juventus vediamo un po' ragazzi vediamo un po' cosa combiniamo oggi buonasera a tutti, ciao Ale spero che tu sia meglio godiamoci questo derby della mole va meglio, va meglio Emiliano piano piano sia quale costo che quale ascesso va meglio piano piano si ritorna in forma ciao Flavio Ale ho già ansia, fai te anche io ho un po' d'ansia ciao mamma buonasera derby oggi, oggi derby oggi derby ragazzi 3-4-2-1 del Toro con Savic in porta Rodriguez, buongiorno tra mezzo i difensori centrali a voi voi da sinistra poi a destra c'è sempre il classico Bellanova vabbè, Duvan Zapata Linedi, quello li sappiamo tutti Blasic e ci sono 3-5-2 della Juventus classico, Scesni in porta Agatti, Bremer, Dagnoni in difesa a destra c'è Cambiaso a sinistra Kostic Rabiolo, Catelli e Meccanini al centro e davanti abbiamo Chiesa con Duzjan Vlaovic ragazzi, allora l'ho fatta su YouTube fatemi sapere se c'è lo stesso problema della voce perché se c'è lo stesso problema della voce allora i discorsi sono due o è la connessione che il live non mi supporta bene e mi fa laggare perché non può essere il microfono del telefono perché fosse il microfono del telefono praticamente non si sentirebbero neanche bene i video quando registro oppure proprio YouTube che in questo periodo qua in generale non non fa sentire le voci fluide ecco quindi ecco fatemi sapere un po' come si sente se è meglio così senza StreamYard oppure non c'entra nulla StreamYard ma laggo lo stesso comunque benvenuti a tutti quanti perché è entrato siamo in 13 mi raccomando con i pollicioni lasciate un bel like che ce ne sono 7 quali posso vedere i like sono 7 aumentiamo sui pollicioni facciamo andare su in tendenza live intanto è gratuito è tutto gratuito come l'iscrizione anche quindi mi raccomando mi raccomando iscrizione al canale sarà un toro aggressivo ragazzi loro non vincono un derby dal 2015 quindi automaticamente vediamo un po' vediamo un po' lo stadio esaurito oggi lo stadio è completamente esaurito domani come Coppa Italia ciao Forza Toro chi perde out cosa così non buon pomeriggio a te Carmela ciao Ale mi spiace ma oggi Forza Toro per me per te questa settimana forza mi dispiace Ale ti fa un po' quello che ti pare ci mancherebbe altro non mi arrabbio ciavallo il derby una partita da vincere stop si sente sempre un po' disturbato e vabbè ragazzi allora non so da dirvi lo provate tutte lo provate tutte se si sente disturbato lo stesso non lo so allora la connessione o è la connessione che il live mi da problemi oppure proprio youtube che con le live mi fa cracchiare il telefono perché quando registro ripeto non ho problemi perché poi alla fine parliamoci chiaro come hai detto anche l'altra volta non mi ricordo se è Antox forse un problema di audio ragazzi si sentirebbe male anche nei video quindi quindi è inutile non lo so non ha scatti ma un po' graffia ma è meglio rispetto a StreamYard comunque è molto meglio io qua io qua sto a maniche corte si fa caldissimo Gerardo fa caldissimo anche qua si molto meglio allora se si sente molto meglio qua ragazzi in avanti le facciamo su youtube normale non usiamo più StreamYard useremo youtube normale per forza perché è meglio così buonasera marco buonasera meglio qua allora le faremo qua ragazzi tra l'altro youtube è carino perché mi mostra anche i live i like scusate 10 like è arrivato il decimo like adesso quindi è carino da questo punto di vista l'unica cosa che purtroppo non posso mettere i commenti in sovrascrizione non posso neanche mettere il risultato perché youtube non lo permette qua 2-0 Brentford scrive Dani ottimo che ci aggiorna anche della della premiere alle vincette easy va bene come sempre la buffata di Leonardo non manca mai buona fortuna grazie Flavio si sente una meraviglia l'audio Ale meno male si vede che ad alcuni va male ad alcuni no mi fa piacere che comunque altri si senta l'ho beccato tutte e non lo Sheffield è caso strano caso strano caso strano è finita Ale mannaggia allo Sheffield comunque sta a pensare la partita ragazzi sta a pensare la partita e vediamo un po' si in porta c'è Savic ragazzi c'è Vanya Milenkovi Savic e il Toro è una squadra che subisce poco ragazzi è una squadra che come noi in difesa ha subito solamente 4 gol in più di noi e basta ciao Ale ciao Claudio Ale sempre Forza Juve in bocca al lupo ciao Maria sempre solo Forza Juve la Sampa ha perso e non ho visto i risultati della serie B ha perso la Samporia quindi il City il City ha tradominato 5 a 1 ci scrive Dani ma il City ragazzi è una corazzata il Toro è una squadra rompiballe per fargli un gol al parto ma gli ultimi derby infatti Juventus Torino Torino Juventus sono sempre finiti 1 a 0 0 a 1 sempre anche quasi qua vado a scadere io mi ricordo il gol di Pirlo il gol di Delicte il gol di Quadrado il gol di Bremer il gol di Gatti all'andata il gol di Locatelli sempre quei gol presi un po' così all'ultimo dove devi sempre soffrire e sarà una parita di sofferenza Ale come va con le costole va meglio mi fanno meno male ancora fanno mi muovo sento qualche dolorino ma va molto meglio grazie Claudio anche 4 a 2 derby l'anno scorso se è giusto sì chiaramente abbiamo fatto 4 gol comunque sì in casa del Subirol quanta ha perso 1 a 0 sì secondo il sugo segna Ken ragazzi praticamente Ken che non parte neanche il tolare entra e segna e troverà il suo primo gol in stagione con la maglia della Juventus la vero dura la vero dura però se il sugo ci prende applausi per il sugo certo si taglierà le vene perché Piergo da Ken quest'anno abbastanza umiliante però sì 1 a 0 ma su di roll ragazzi è una squadra rognosa una squadra che se ti fa gol poi è molto organizzata anche l'anno scorso era così in Serie B è campo difficile ma giocavano in trasferta o in casa Ammarassi non mi sto giocando Ammarassi è in casa però la Samp è un'occasione allora grazie Claudio anche io voglio bene anzi grazie mille per essere stati vicini con me in questo periodo perché tra costo l'età l'ascesso che è una bocca grossa così e si notava nei video purtroppo mi siete stati molto vicini vi ringrazio ragazzi per il supporto sicuramente al novantesimo scrivere sogno la parita scaduta non abbiamo più niente da dire al campionato il derby è una partita aspetta che vengono i messaggi su Messenger da vincere comunque da blindare il terzo posto e tenere lontano il bologna sì il nostro obiettivo Antox rimane la Champions ormai cerca di vincere il più possibile per avere quella matematica Champions il prima possibile ecco buona fortuna Alec ci becchiamo dopo forza torre ciao sugo buon derby buon derby speriamo che vinca il migliore senza polemiche senza niente buon derby c'è molto di silenzio ragazzi per le vittime di quella centrale diciamo idroelettrica lì che è esplosa Bologna vicino a Bologna dove era comunque un'altra tragedia sul lavoro ragazzi un'altra tragedia sul lavoro la sicurezza non è abbastanza purtroppo purtroppo è così sì a beta maresca quindi speriamo che nessuno protesti di produzione Vlaovic perché maresca appena appena protesti ti ammonisce maresca è così ragazzi maresca è così quindi fate i bravi hai visto che vede bellissima la City secondo te il City ha favorito visto che un pareggio a Madrid non è da buttare beh sicuramente con un 3 a 3 a Madrid il City in casa ha quel leggero vantaggio in più poi non vuol dire però in casa quel leggero vantaggio in più c'era il City parte col 50 45 da 55 45 45 City 45 real per il passaggio solamente per il fattore casa mi raccomando raga un bel like a live non dimenticate di lasciare un pollicione siamo in 16 13 like andiamo a 16 anche tu Dani che ti dimentichi spesso di mettere like magari non l'hai messo metti like 14 grandissimi ottimo 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 14 like grazie mille la cosa bella è che ripeto quali posso vedere in diretta il live il like 15 like benissimo grazie mille ragazzi su questo è più aggiornato che voto daresti alla sezione di Vlaovic fin qui ma considero che non ha fatto neanche le coppe europee ha fatto più di 13 14 goli in stagione anche forse in Coppa Italia qualcosa ho segnato non lo so ma io gli do più che sufficiente per me non sei e mezzo se lo merita tutto almeno ciao Andrea buonasera messo messo grande danno l'ho appena messo like grandissimo ho sentito nei pronostici che hai dato la vittoria alla Fiorentina sì mamma secondo me la Fiorentina a Firenze vince con il genere mi dispiace ma è così l'ho messo negli anni di Cristo ok ciao Ale vincendo come sempre col Torino ciao a forza mia idea ciao Arianna complimenti ancora per l'impresa che avete fatta a Danfield non è detto che vinciamo come sempre io ho paura 16 spettatori 16 like grazie mille ragazzi la perfezione la perfezione grazie mille generalizzata la partita ragazzi quindi ora facciamo anche un po' di telecronaca e niente allora vedete il segnale nel primo tempo speriamo secondo me la finale sarà City Barciolone Tifero Barciolone anche sono scantaggi per tutte e due ma in realtà io non sapete le zone sono le due devo essere sincero Claudio ciao Ale e buona partita e forza Juventus ciao Giulio grazie mille buona partita anche a te buon derby forza Ju sempre Parla Cesni 18 like eravamo 17 uno l'ha tolto non fate i furbi che vi vedo vi vedo vi vedo ecco stato 18 bravi bravi guarda che io vedo tutto in diretto adesso state attenti vi controllo che perdono una multa incredibile così mi brucia perché ah multipla perché corner dei giurati escono eh lo so immagino internazionale ciao a tutti sono buon pomeriggio a te internazionale buon pomeriggio a te e niente c'è qualcuno che iscrivete a togliere e mettere i like giusto fammi sclerare attenzione qua rabbio ripeto la mette per terra chiesa giudici in conferenza ha detto che allegri non ha uno schema definito di gioco e l'efficiente gli va a dire grazie per il bene parole ma in realtà lo schema definito di gioco ce l'ha allegri tra 5 e 2 più dessi in difesa come sempre quindi non è che bisogna bisogna tanto capire come gioca allegri attenzione qua chiesa chiesa scucchiaia dentro meccani di testa la palla di impalla Savic non la tiene quindi è calcio l'angolo Juve si calcio l'angolo Juve ragazzi sono juventino si internazionale sono juventino forza toro scrive Leonardo buon derby a te Leonardo che vinca il migliore e niente chi lo vince lo scudetto mi pare mi pare palese che quest'anno lo scudetto lo vinca l'Inter no mi pare palese internazionale inserendo a DL che vorrebbe seriamente Conte ma se verrà Conte per fare il cuore Conte gioca con 3-5-2 in teoria poi a DL deve pagarlo tanto Conte se lo vuole pagarlo veramente tanto perché Conte si fa costare palla dentro cross spazza in qualche modo Torino rimpallo favorito adesso vai Voda va a lanciare Vlasic pallone troppo lungo non ci arriva Vlasic rimessa laterale per la Juve forse di vestire ma alle seconde l'intelligenza artificiale lo vinceremo l'anno prossimo lo scudetto speriamo che sia vero ma io ho visto lo schema dell'intelligenza artificiale per quanto riguarda la Champions la Juventus per vincere il Champions di fila nel 2041 tipo io non ci credo tanto a queste cose Antox non ho capito bene eh lo vince l'Inter lo scudetto vincere la seconda stella complimenti hai capito benissimo invece solo che me lo devi far ripetere perché ci vori ma giustamente il vostro anno è giusto che festeggiati nessuno dice nulla e intanto la Juve colpo stesso palla con Danilo vabbè dai lo stesso ingaggio che aveva lanci rotti 7 milioni eh sei sicuro che sono solo 7 milioni uno come Conte secondo me se noi non viene 9-10 non viene non sta contenta poi Conte andrà a Napoli alla fine ma con l'Oriente si verrà come da Natale a Santo Steffi tra l'altro poi sono due teste calde io non ce li vedo per niente insieme nel senso che è difficile far coesistere due teste del genere comunque pure sul nome c'è la seconda stella e beh sì è certo ci sta giusto che la metti pensa un po' io la tre di stelle e poi le qua lo stesso palla del Torino adesso Tanez quattro minuti sono passati le squadre si studiano Conte è un tipo pretenzioso vuole fatto il mercato in Champions un legato sì allora c'è la dire questo Conte oltre a pagarlo tanto poi devi anche fai un mercato consistente poi in Champions però per il momento ha sempre flottato cioè ha sempre flopato poi è un campionato in Serie A soprattutto ma anche in Inghilterra ha vinto sempre qualcosa nei campionati quando si parla di Europa è un po' limitato da questo punto di vista non farmi rosicare ma non puoi rosicare perché quest'anno vinci come fai a rosicare comunque se sei nuovo internazionale ti fa piacere ti puoi anche iscrivere al canale io parlo anche di Inter in maniera sportiva non sono uno di quelli che fa video sfruttò così varie mi piace pari calcio ecco attenzione qua la palla messa dentro sballa lo stop Locatelli e poi Ricci col mancino palla che esce fuori di un bel po' ma qua Locatelli ragazzi veramente ha sbagliato vediamo un po' palla messa dentro no è rabbio è che ha mancato lo stop mamma mia per me vuole almeno 10 sì ma per me le stelle servono per la storia ma alla fine non fanno niente le stelle si simboleggiano quanti più o meno hai vinto cioè quanti ne hai vinto cioè se tu hai 3 stelle sai che ne hai vinto più di 30 le tue 20 stelle sai che almeno 20 ne hai vinti cioè sono belle da vedere sopra comunque il logo della squadra ti ringrazio per l'iscrizione alla sostituzione iscritta internazionale ma non è da escludere una possibilità conferma di calzona no calzona non lo confermano ragazzi calzona non verrà mai confermato secondo me palla dietro per Zapata c'è Scesni che esce la fa sulla sto cantando forza a toro bravo black bravo canta forza a toro come lo vedi il Napoli domani contro Fosinone come lo vedi sta Juve oggi forza Napoli sempre ma il Napoli domani contro Fosinone Fosinone è una squadra che ha bisogno di punti salvezza non naviga non naviga in belle acque assolutamente non vince non so da quanto quindi diciamo che al Maradona credo che il Napoli possa 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 vincere più forza mi cosa cioè come se le costole da stasera va come sempre con il Torino ciao Federico guarda va meglio non sono qua avuto del tutto perché quando mi stiro mi muovo sento ancora un leggero di dolore ma va meglio grazie mille attenzione qua palla palla chiesa palla per Vlavic palo costic palla dentro ancora chiesa da un assist perfetto a Dujan Vlavic piattone pieno di Dujan Vlavic e Vlavic prende il palo qua Vlavic te l'hai mangiato ragazzi qua Vlavic te l'hai mangiato poteva fare meglio da quella posizione devi segnare ragazzi porca miseria calzone difficile perché non so se vorrà continuare ad allenare no ma infatti si dedicherà sulla ventana nazionale calzone ragazzi chiesa bellissima la palla sulla fascia di destro Vlavic a botta sicura prende il palo peccato 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 tirate bene non è giusto giocherà Nata Nostigar no no ha preso il palo ha preso il palo Vlavic ho mangiato forse il gol subito questo è più gol mangiato che scalogna sul palo purtroppo ci ho messo un bel like grazie mille per il like infatti siamo a 20 vi ringrazio ragazzi 20 like qua Vlavic ragazzi se ne è mezzo mangiato bisogna fare meglio molto meglio e peccato peccato però prima cosa importante della Juve con questo palo quando Rieger scopre palla esce Savic c'è la fa sua lancio lungo del Torino cercare la corsa occhio palla dentro esce Szczesny la fa sua buona questa alternativa legge la situazione l'initi 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 l'ha messo un po' interessante l'ha trovato anche un bel corridoio radio no io non sto cantando assolutamente quella squadra no io tanto solo forza Juve e basta buongiorno vuoi voda scivolata di Rocatelli guarda che è in palla e torna in difesa dal Torino comunque Liverpool con l'Atalanta ha perso perché sta pensando a giocarsi la Premier visto che ha stato tutti punti come l'Als eh beh però ho capito però è anche una ghiotta impossibilità di vincere l'Europa League che ha tre gol in casa da Anfield è comunque pesante Guglielmo scrive Messi Argentina io pratico Ronaldo lo sapete adesso caffè stasera va come sempre con il Torino eh adesso caffè ci sta il caffettino io sono sotto antibiotico quindi c'è scritto che per sicurezza non fa nulla però per sicurezza è meglio evitare anche il caffè quindi non li sto piano una settimana perché è una settimana che prende antibiotico quindi io sclero senza caffè però domani l'ultimo giorno di antibiotico quindi per forza di cominciare più al caffè eh qua più lo vedo sto gol più è mangiato ragazzi peccato peccato veramente se vince oggi la Juve oggi sicuro Champions se pareggia la perde forse vediamo la cartella e il calcio sono due cose che fanno in contrasto ah ma no per il derby non canto neanche forza Milan perché tanto cosa sto a buffare l'Inter l'Inter ha vinto lo scudetto per me io l'Inter non lo sto guardando ma non sapete sapete quanto è che non guardo l'Inter cosa fa a livello di classifica perché a noi non interessa l'Inter ormai a noi interessano quelle dietro noi dobbiamo qualificarci in Champions ho fatto 23 views e io un po' su statua un bel posto status perché ho fatto un po' di minutaggio più di altro io c'è sicuro Danilo Locatelli ancora Vlavic incontro si va al pallone lo mette per terra poi viene marcato trattenuto da buongiorno Vlavic batte subito per Rabiot poi Kostic ancora Danilo movimenti ragazzi movimenti buonasera ninja buonasera ancora largo a destra chiesa torna da gatti forse ce la farò il video va bene Dani va bene Danilo su Rabiot prova a pizzicare di tacos fatte su Ricci ha recuperato qua del tono eh rintrano Antox ninja e poi in chat non so ora il tono che comincia indietro da Ricci da Roma se passerà col Milan sarà la favorita ma occhio alle Evercoze che dopo la Bundesliga ha già vinta potrebbe vincere anche l'Europa League eh l'Evercoze ha ancora imbattuto ragazzi in stagione ancora imbattuto in teoria sono cinque ore e mezza va bene e male questo pallone perde da tre di usia Chiesa Cambiaso ancora Chiesa Scambioni 2 ancora Cambiaso Locatelli la dà Rabiot Rabiot porta palla ancora per Cambiaso di tacco sbagliamo qua la giocata e recupera la palla al Vittorino che bella nuova scivola perde palla bella nuova Chiesa 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 Cambiaso appoggia Locatelli alto sopra la traversa seconda occasione per la Juve ragazzi scivola bella nuova palla Chiesa palla per Cambiaso che dà la dà lascia l'indietro per Locatelli Locatelli apre questo piattone la palla si alza alta sopra la traversa peccato esce la programmazione è programmato si era vincita col Torino come al solito eh Federico vediamo non è detto vabbè dai non è uscita poi di tantissimo Antox dai non è uscita così tanto pensavo peggio la fase difensiva vabbè la Juve vincerà sicuramente un altro 0-1 cortomuso vedremo intanto per adesso siamo partiti bene il Torino non ha fatto nulla di che al momento comunque in 4-10 minuti già un tiro con Locatelli e un palo di Vlaovic qualcosina in piedi abbiamo fatto qualcosina in piedi abbiamo fatto è riuscito a stoppare il palo e girarsi Vlaovic è importante lo scarico dietro perché la pressione ci sarà sempre costante la parte del Torino e da parte di uno come buongiorno che insomma in queste situazioni ha dimostrato essere molto duro Scesni lancio lungo verso McKennie McKennie di testa la palla arriva da Savic quindi la fa sua ragazzi una bella iscrizione per chi è nuovo è un bel like alla live mi raccomando se avviciniamo sempre di più ai 6.000 oddio manca ancora un bel po' però abbiamo raggiunto 5.740 e passa quindi 50 anche forse se mi ricordo comunque dai piano 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 ci si arriva ancora qua il Torino che fraseggia fa un po' sesso palla al momento sterile per noi non è pericoloso al momento Giorgio Gironi difesa Contames e Buonaventura e Buongiorno Rodriguez Buongiorno McKennie lecidiamo all'ottantonevismo quando forse inizieranno a giocare un gol dai buonasera dai Juve che ce la fate e dai che ce la facciamo speriamo speriamo Grillo se segnava Vlave ci rischiavo di prendere la quota 6 Diaz ha preso Traversa comunque il trailer del video dello squelto del Napoli fa cascare per terra non l'ho visto Pioli dove andrà ma Pioli ora sta al Milan se lo mandano via forse farà un anno sabattico non lo so dove possa andare ovviamente Pioli non so che può andare ragazzi non avrei idea Locatelli all'indietro ancora per Cesni la Juve comincia dal basso Cesni chiede un po' di movimenti gente che venga incontro chiesa ancora per Cesni non credo se escono con la Roma andrà via sicuramente una lotta senza limiti senza limiti per la corona inglese bella lotta in Inghilterra comunque sì secondo me Pioli il suo futuro riprenderà tanto dall'Europa Liga appunto se Pioli fa il miracolo che la vince rimane se non la vince non vanno via Pioli al Bologna un Bologna in Champions League il prossimo anno però non credo da mezzo Sanabria ancora Sanabria all'indietro verso Buongiorno Gatti per terra ragazzi ci tocca allo stomaco eh il pugno l'ha preso eh Gatti l'ha zapato nello stomaco ma Bologna smantellato eh potrebbero smantellare il Bologna comunque la serenitana deve andare su item B squadra abominevoli vergogna della Serie A Scanalosa peggio di debiti dell'Inter scherzano peggio di quelli non c'è nessuno beh diciamo che diciamo che comunque è una squadra che la serenitana va già in B Sarri mi resterà fermo così come Mourinho vedremo dai non dormite spero che il pericolio Grillo siamo lì sul pezzo Sarri rarovamente l'altra di destinarsi lasciati di fumare i siccari ma anche Mourinho allena ragazzi anche Mourinho anche Mourinho allenerà ragazzi non rimarrà fermo fidatevi non rimarrà fermo Mourinho sicuramente spero che perde il Torino eh speriamo Grillo beh ovviamente non è rosso perché non ci sono immagini chiare c'è un pugno no diciamo che Gatti li ha sempre dati pugna sto giro li ha presi ma il bar quando c'è qualcosa a nostro favore non interviene mai non ci sono immagini Pietro ha gestito molto bene io vorrei desiderio al Napoli eh desiderio un bel allenatore Mourinho trova a squadra quando vuole il tipo di infica penso anche all'ultimese Mourinho in Arabia si trova bene Conte anche da qualche anno ormai tutti li vanno prima o poi eh per i soldi ragazzi per i soldi ovviamente per i soldi domenica sera durante il santo in Hinesquare ci sarà il consueto episodio di Open Park del José Dottomo che si è divorato una Bundes già in tasca l'anno l'altro anno ma le percuse hanno chiuso ogni discorso della mese si è belle percuse non ha fatto lo stesso errore del non ha fatto lo stesso errore del del Borussia sicuramente si sente bene l'audio mi fa piacere Andrea mi fa veramente piacere c'è il fallo qua di Danilo Rabiot 2 e 2 fa fallo comunque Rabiot fa fallo su buongiorno De Zerbi nel 2025 tornerà in Italia chissà chissà Mourinho deve allenare qualche nazionale potrebbe anche potrebbe anche potrebbe anche un'ipotesi ragazzi della nazionale per Mourinho non è così impossibile come presenza Mourinho rispetto al prima parte di stagione da vincare eh Fabio prossimo anno deve vincere lo scudetto non lo so dipende se rimane allegri dipende che tipo di mercato facciamo e è tutto fallo di Locatelli anche su Sanabria ragazzi Sanabria e Ricci che vanno a chiedere all'arbitro un provvedimento disciplinare con una volta nemica molto sicura quella di Fabio Maresca vediamo l'intervento di Locatelli che si porta via al pallone però travolta Sanabria sa che ha rischiato ha rischiato perché nella dinamica del picker tu puoi anche scegliere eh cavolo cavolo Locatelli vai piano vai piano questa modalità che ti espone il rischio di poter essere io De Zerbi non che a squadra italiana che lo vedo bene è il Milan potrebbe fare bene il Milan Zerbi solo il Bayern ha chiuso un ciclo nazionale più lungo del vostro vale beh in quel campionato caro Manuel è un po' più semplice anche parliamoci chiaro si la nasce una polinare la vita bella ai livelli di siti ideale e le cose giuste si si Cagliari ha preso la palla si però poi ha travolto anche Sanabria poi gli dice sempre fallo travolta mai l'avrei detto mi tocca attifare reali in centro almeno fino al trimice rischio sul campo dei citizen eh immagino lo canelli fa le cose fatte bene cheat si avete vista credo che l'anno prossimo vincerà il Milan lo scritto il Milan ha una bella squadra per poterlo magari provare provare a vincere poi vediamo Rodríguez palla dentro Pecchini di testa lontana poi ancora ritaccolo Catella a spazzare via poi Vlasic Rodríguez poi Torino Ricci Rodríguez poi Voda poi Voda cross dentro radio di testa produrgo sul secondo palo calcio d'angolo per il Torino calcio d'angolo per il Torino ragazzi Pietro ha toccato palla Locatelli diamogli il pallone d'oro il problema è quando la tocca la palla capito se non la tocca fa un favore al calcio ragazzi ma Locatelli purtroppo già prende un ruolo come nel suo fa il mediano qui è mezzala quindi non neanche troppe colpe cioè alleghi che lo mette in un ruolo come nel suo è lì che sbaglia Poro Dani oggi Pietro Tombale sulle ultime espanze dei Blades eh guarda Poro Dani mi dispiace ma lo Sheffield mi sa che scende Rodríguez palla dentro lo Sheffield esce così così ma c'è carica sul portiere e fu così che lo vincemmo noi visto che non giocheremo da sempre eh ma il Napoli dipende chi arriva cioè che c'è una rivoluzione in casa Napoli molto importante se va via comunque se va via comunque Osimè va via tante altre persone se va via Osimè va via anche tante altre persone giocatori difficili che forse vincello Napoli devi proprio fare una campagna acquisti perfetta cioè tu Pedro Esimè che si stituisla alla grande forse prendere anche Angissap Di Zielischi cioè veramente è infatti già un mediocre in più giocchi di ruolo non su vedi un po' che esce eh per ora mezzala non è più così mediocre da mezzala Sassuolo e comunque all'europeo ha fatto bene ovvio adesso lo giudichiamo perché fa schifo in quel ruolo Napoli perderà di Lorenzo se ne farà anche se stento a credere che parta pure il capitano cioè rischia peraglio Lorenzo perderà perdere Osimè perde Zielischi non è facile per Napoli prossimo anno di partire e vincere uno scudetto eh dipende anche chi di poi in panchina sì Osimè Zielischi va già via ma c'è con il gioco di Blauic sui compresi di Danilo quindi tutto annullato un po' Savic coi piedi sicuramente a mandare avanti cercare due Van Zappata di testo che non può se sia così infatti è così c'è il copo di testa di Danilo però che che vince il duello con Luvan va anche per terra con Danilo quindi si prende pure il fallo il capitano le aperture di Locatelli sono un insulto al calcio ma io faccio aperture migliori Spaletti se lo ritrova il New York chiesa in questi ultimi due mesi perde troppo in ottica di Euro24 tra l'altro non c'è neanche un girone facile per fortuna le miglior 4 terze passano nei gironi quindi anche se dovessimo levar terzi abbiamo la possibilità di potercela fare qua Savic è disturbato dal prestito di McKennie spazza così così rimessa laterale per la Juve segnato per la prima volta nella partita di andata con l'Inter quando abbiamo visto McKennie fare veramente il terzo attaccato della Juve e oggi porta Rodriguez a dover coprire tanto campo e a pagare per tutta la tre quarti lo cattelli metti per giocare in eccellenza ah io mi retti fare qualche anno di prestito quello valuterei bene ho fatto i fagioli ho visto l'altra volta il PSG Osiman con contropartita Asensio Ken Can e Liberaldo so che c'è il PSG sì di mezzo per Osiman però non sapevo di Asensio vediamo cosa del Torino che è costice 1-2 con McKennie poi ancora Torino che conquista palla di conquista palla Sanave a Tremese Bella Nova torna l'indietro verso Buongiorno Buongiorno tornerà da Milinko Vissavic sì Maleghi la mia regala di chiesa le ha vissuti da una grotta ancora la seconda punta la siera sì Allegri Allegri ragazzi purtroppo con chiesa con chiesa è così seconda punta eppure l'assist migliore che ha fatto Vlavic chiesa è stata la fascia era in fascia ha messo il suo palone dentro e aveva l'ho preso palo sì appunto prestito al Cartaglia per Miretti per Crescio al Cartaglio al Messina e vado al suo livello di verità povero Miretti cambiato cambiato ah Canilì coreano che suscisce Peschi e Beraldo è un difensore centrale classe di un metro non so niente io ho clari di queste cose qua sai mi cogli impreparato Costic Danilo Locatelli Gatti ancora Locatelli Danilo apertura per Gatti Gatti qua là dentro un po' una lettrata sbagliata è riuscito a metterla giù provate un'occhiata alla porta ma ce l'aveva sul testo perché Ravio Ravio Locatelli Vaglia qua c'è il palo di Bremer su Duvanzabat Coltolina avanti che si segna si fa il 25 aprile mamma mia Beraldo Brasigliano come Nathan l'entrante per Bellanova va bene che Bellanova è veloce ma non così veloce quindi quindi meno male fischi per Bremer beh ovvio è l'ex Bremer è normale per me uno come Ancelotti non avere Courtois all'arba di est un casino dato che il tecnico italiano fa della fase difensiva della ripartenza il suo credo calcistico beh soprattutto Courtois ragazzi Courtois in porta tra i pali salva tante tante tanti problemi c'è l'unin è un'altra cosa Rabio Blauvic combatte fallo di buongiorno ciao Cristian tutto bene come stai? Cristian è un'altra cosa già scrive da mangiare Bellanova di testa cambia sui po' questo pallone questo pallone costi c'è allora per Blauvic ancora Costic quel cano lì è fortissimo alla prossima delizio da BTOPS sia un bel giocatore un bel giocatore sto guardando su Dazon Cristian Gatti palla dentro la palla di Maelie Blauvic miracolo di Savic Gatti ragazzi supera in velocità Linetti mette sta palla dentro buca buongiorno poi Gatti poi Blauvic stoppa col mancino e tira col mancino Savic col piede la para Savic col piede la parada ragazzi che miracolo che miracolo che miracolo no non c'è già già Cristian miracolo di Savic chiesa palla dentro Rabiotorre spazio poi Torino oggi ero nella live ed era sarcastico Borrello al gol preso dello suo scefiro ma non ci spera più neppure lui eh immagino con lo Dani eh Dani si sa rabbia perché questo gol non arriva primo tempo si crisi a giocerossi a bordo a campo che mangia il frattempo di Sergei invece sta buttando nel cesso la carriera tra i cammelli eh purtroppo si i soldi butta bestia ragazzi Savic poi deve spazzare qua ma cosa ha fatto Savic su Blauvic poi molta miseria porta poi castrato il cammese a due tocchi fuori giri il tentativo di pressi in dichiesa poi così infittato bisogna un po' cosa mangiata collaborazione a pranzo spesso il supporto di sapata di rigore oggi ho fatto tardi la live raga grazie mille per il like andrea grazie mille meccanì qua passa bene attenzione meccanì meccanì porta ancora pallone sterza meccanì chiesa appoggia per rabbio rabbio apre sulla sinistra verso costic porta palla costic ancora costic cross di costic intercettato da rodriguez era anche carina l'idea più per equilibrio costruito del corpo a sputtare fuori quel pallone no io le consiglio a fare dei consigli per la finale ma poi non è che il gioco stessa quando posso poi voda che tira murato segna id si uno oggi quando entra magari andrea che adesso non gioca no 0-0 0-0 siamo Antonio purtroppo qua su youtube non posso mettere risuota in diretta però è 0-0 col ginocchio la parata col ginocchio la parata col ginocchio ha segnato Foden ma oggi ho in Champions 10 in questo contesto di duelli 1-1 la presenza dell'inserimento pubblica di questa scena o provo ad accorciare quello che viene davanti a me o rimango su Claudio io forse non ci ho caduto da quel 3-2 dell'ultit tavolo ma è già l'errore assegnato su punto di vista punti nelle ultime partite si era vista qualcosa di diverso ma oggi da sono ma giuca Mancini pur diventare il sindaco se i prossimi così eh Mancini ultimamente fa dei gol pesanti ragazzi il banner non c'è Cristian perché siamo su YouTube normale non siamo su StreamYard i banner non posso metterli qua i banner però almeno si sente meglio la voce eh perché non gioca chi do è l'Allegri perché non gioca il Litz Andrea ciao sono Bruno ciao Bruno buon pomeriggio gol di Foden Juve in vantaggio olimpico grande Torino oh di no di no ha giocato ok buona questa questa è arrivato adesso a destra bella no vantaggio si sbraccia chiedendo probabilmente movimenti c'è sempre una possibile soluzione nella costruzione milico di Salice è la sì dopo faccio qualche partita Cristian grande Torino grande per dire vabbè come ora Torino non ha fatto nulla di che grazie per fortuna il gol di Foden è pure la poesia cioè a me facciano entrambi i giocatori però quel gol che ha fatto Foden è spettacolo Torino di Milano e passaggi al momento Torino lo stiamo contenendo bene molto tre occasioni importanti purtroppo non è entrata neanche una qua Locatelli fa fallo per gioco pericoloso gamba alta Locatelli Telli Locatelli Dimmi la formazione della Juventus solita formazione 3-5-2 giochiamo con Cesni in porta Bremer Danilo e Gatti centrali abbiamo a sinistra Costic a destra Cambiaso i tre centrali sono Locatelli Rabiot e Mecchegni e di davanti abbiamo Luzjan Vlaovic con Federico Chiesa malasinelli ma pensate che reale 25 con Giurde Vinicius ad ispirare Kilian a Kiliferno anche con Bazzuca se Kilian va a Madrid è uno squadrone mano è uno squadrone è uno squadrone Bocatelli cosa fa in campo guarda sto zitto che è meglio palla dentro del Torino 1 a 0 per il Lecce Fabio gola allo scadere di Sansone qua Locatelli dà una testata a Gatti Gatti dà una testata a Locatelli si fanno male da solo loro due si fanno male loro due da soli questa partita mi dà sonnolenza e arcari sicuramente è un tifoto del Torino ancora più sonnolenza noi qualcosina abbiamo fatto qualcosina Andrea son Turanza Cani Morata torna Morata vediamo una c'è delle voci su Morata ma non lo so alle 6 due soldi li facevo 5 di donazione purtroppo il conto oggi si rimane tranquillo antro si mancherebbe altro non ti preoccupare non sono obbligatoria le donazioni lo sapete Sansoni mi rievo da pessimi ricordi giusto Dani Sansone Sassuolo già cosa ha sbagliato Blavis prima ha sbagliato gli ha parato Savic o dice il palo il palo poteva far meglio come finita Milan Roma chi hanno segnato 1-0 Roma gol di Mancini Cristian faccio il pronostico Roy per me finisce 1-0 Juve cortomuso 0-1 ciò facciamo a casa se una volta me lo prendo meglio di quell'inverterrato di Ken beh si a posto di Ken fa un upgrade sicuramente però certo morata Tris ancora morata cioè non sapeva mai cambiare noi cioè non troviamo di meglio si ora 0-0 ci può stare noi abbiamo fatto con cosina in più ma sta pala non sta entrando al momento Roy vediamo un po' comunque ragazzi se mi metti 3 siamo a 29 like ne manca 1 e 30 al trentesimo like mi raccomando spolliciate e iscriviti dal canale siamo vicini ai 30 like 1-0 autogol di buongiorno eh buona che mi prendo anche un autogol io basta vincere non mi interessa non mi interessa ma Zagnolo metterà la testa a posto prima poi al momento vi abbassa il cappuccione non sa cagare nessuno neppure se il superbacato infilandosi in dribbling si Zagnolo ha questo avizio che quando ha il pallone non guarda i compagni 30 like grazie mille ragazzi grazie mille attenzione qua attenzione porta a palla al Torino Vlasic 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 ancora palla dentro spazza Danilo in qualche modo poi Rodriguez riesce a darla ancora a Bellanova Bellanova cross dentro ancora di testa per Danilo e allora poi ancora Rodriguez di testa poi Bremer McKennie che appoggia per Kostic Kostic che sta vivendo chiesa chiesa per Blavich che si fa anticipare da buongiorno però e allora Rodriguez attenzione il Torino che non molla in questa fase il Torino non molla Voivoda Voivoda sulla sinistra ancora Voivoda Vlasic Vlinetti Voivoda punta Voivoda verso Cambiaso lo tiene di Cambiaso poi Voivoda ancora Sterza cross dentro e poi Kostic di testa riesce a chiudere bene su su Bellanova qua scivata Mese non c'è niente rimessa generale per la Juve ho messo ventunesimo like grazie mille eroi gol del Mormut ok ti facciamo a vincere è Grillo si spera va fast il teresimo è di un interista grande Dario grandissimo grandissimo siamo a 33 addirittura però grande Dario ti ha fatto 30 ho mangiato per pranzo cosa ho mangiato per pranzo al pollo al forno con le verdure bollite condite tipo melanzane zucchine quelle cose di Cristian un cibo dietetico da sportivo ecco da sportivo Bellanova cross dentro colpo di testa di Vlasic e qua è la prima occasione del Torino perché Vlasic prende il tempo a tutti tutti i fermi di poter la Juventus schiaccia questo pallone per terra troppo angolato per fortuna primo tiro non nello specchio ma primo tiro del Torino occhio Juve non ce la ormentiamo non ce la ormentiamo Zagnolo Calciatore è un po' troppo spavolutato secondo me ha tanto potenziale che però non ha mai tirato fuori in prima sta facendo pena beh ma si è anche fatto due crociati Zagnolo ragazzi dopo i crociati giustamente è calato il giocatore Cristian mi ha aspettato questa domanda che ha fatto dare mi è stupito ha preso il sofferenimento all'alternate Zagnolo oppure quel doppio gravissimo eh sì ho detto io prima quello più infortunio è determinante Kostic Vlavic è sempre francavollato le due volte che la libero ha acciccato bisogna giocare con tre punte per vincere eh c'è un buongiorno che non lo mola giustamente uno con Dujan Vlavic è pericoloso lo marca stretto dentro ancora Gatti Cambiaso punta voi voda Cambiaso cross è dentro buongiorno con la testa giallo per gatti che piglia sul volto buongiorno giallo per gatti gioco pericoloso porta palla rovesciata non l'ha presa ha preso il buongiorno in faccia regolamente giallo che dice Pietro Vlavic si cambia le apriete non vede oggi che sta facendo calma calma non mi tocca di Lujan Vlavic buongiorno qua ci mette la faccia Gatti c'è anche di alto fallo giallo ci sta ricordo i gol di di Vala Ronaldo con il torino vecchi ricordi niente è perso la superquota sta non è entrata sta palla lo sta difendo buongiorno e non maldieri no ma bene però come ora buongiorno nelle migliori indipini serie A per statistiche esatto come con il Napoli lo stesso del Piero è imprendibile pure fisicamente per il crociato e infatti quando entrò in Zaghi non se ne curò volendo quel cuore tutto per sé a portavolta si comportò di merda a livello umano e lo so ragazzi guarda quando i giocatori si fa un crociato con due capite che la carriera poi è compromessa anche Milik se ne fatti entrambi i crociati no peto però è forte per segnare confusione si dà la Monza è unico beh ha fatto quello anche con l'Inter ha fatto quello anche con altre squadre non solamente con le big il signor Vlavic quindi su questo non sono d'accordo mi spiace Savic alla Juve non è facile segnare ragazzi ha dato l'allenatore a Dujan Vlavic poi vedete che torna come quello di italiano che era devastante devastante era devastante ripeto è coppa di un allenatore che non fa far giocare la squadra e che non fa arrivare palloni sufficienti agli attaccanti dai un allenatore è importante a Dujan Vlavic vedete che Dujan Vlavic fa un sacco di gol ora finché ci allegra è così ragazzi chi sta come mai con l'italiano Vlavic in ogni modo segnava in ogni modo chi sta come mai la maggior parte di Dujan Vlavic è così ragazzo se li mangia ci sta però la maggior parte dei gol ragazzi questo ha fatto 14 gol Vlavic ne ha fatti pochi di Dujan Vlavic di Dujan Vlavic ma deve trovare il risultato e viene inimiglato troppo di Dujan Vlavic di Dujan Vlavic è forte anche tecnicamente è un mostro però la condizione fisica è quella che è di Dujan Vlavic ragazzi ora c'è un fallo sulla Bion fallo e giallo di Ricci la prossima partita che per il Torino sarà domenica prossima contro il Frosinone quello è fallo l'ho fatto Sanabria e vedo che Maresca l'abbia ammonito per proteste un po' troppo plafiali quindi l'evento si è preso un rischio era di far tu sotto il Neveke Bremer si era posizionato vittorale di rigore lo cartello che va dato il corona va a seguito a Ricci ha munito per le proteste perché il fallo l'ha fatto Sanabria quindi niente si vede si fa come gli Allegri Vlavic è uno scopo una palla come gli Allegri Vlavic ha la forse come gli Allegri ma per me per me Antox per me si è come gli Allegri per Vlavic per me per Vlavic come gli Allegri un Vlavic così limitato è come gli Allegri per me si ci vede da fare Vlavic è uno scopo di Vlavic batterà Chiesa palla dentro per un colpo di testa magari vediamo un po' un like e 35 mi piace ragazzi mi raccomando ci siamo vediamo un po' come verrà balluto questo calcio di punizione Chiesa palla sul secondo palo Bremer torre spazio qualche modo il Torino non benissimo la palla rimane ancora lì poi di testa vuole la rimessa laterale e Zapata lo ha mandato giù ma la palla però era probabilmente uscita prima dunque rimessa laterale con punizione per la Liga altro cartellino giallo da parte di Maresca che lo sta tollerando dei gesti un po' troppo scenografici di protesta giallo ancora per il Torino voi Voda perché purtroppo Maresca ragazzi le proteste non le mantiene non le mantiene quindi automaticamente appena tu appena tu praticamente fai i protesti Maresca ti ammonisci ragazzi quindi per me è fortissimo Volavic invece sarà ma per me è altrante forte Volavic è maggioro l'impossibile se ne ha mangiato uno Antox perché l'altro che l'ha parato il portiere secondo me si è mangiato il palo per il resto io c'ho tre cani guardiamo i numeri 10 dal calcio ormai numero 10 non conta più nulla nel calcio Manuel ripeto Manuel io capisco che 10 che non sopporti i numeri 10 vengono però ormai ormai ripeto il numero 10 non non vedevo considerato nel calcio finito il mio tempo intanto ragazzi 0-0 fra Torino e Juventus io me lo immaginavo così un derby chiuso difficile sicuramente ne abbiamo avuto molte più occasioni loro una con Vlasic di testa abbiamo giocato meglio noi però una partita a ritmi abbastanza lenti sarà quella classica partita come ogni derby dove l'episodio te la sbloccherà e farà la differenza vedremo un po' questo secondo tempo cosa combiniamo ragazzi no io non so ne vuole per Vlaovic Antox perché ce l'ho anche per Chiesa ma perché io so quello che Vlaovic può dare cioè i 2-3 anni che ha fatto Vlaovic alla Fiorentina ragazzi era un bomber clamoroso è arrivato alla Juventus giustamente si è chiuso perché perché comunque cioè l'Allegri non fa l'anticalcio cioè tutti i difese per andare quindi per quello viene diciamo penalizzato comunque ho lo Shizu quello bianco nero piccolino e c'è lui Lavador Antonio colpa di Allegri sempre lui che deve andare deve andare via a fare stappare la bottiglia a tutti i tifosi di ventina allenatori mediocre e scarso ma si guarda io Allegri il giorno che andrà via penso che veramente farò un video ragazzi giuro che lo faccio mi compro non cose pesanti sapete il fragolino me lo compro il fragolino che è bello dolce che sta di fra me lo compro ti giuro che faccio un video dove vi bevo il fragolino in diretta mentre Allegri per la zona lo faccio lo faccio gioco lo faccio Antos guarda che Vlavic è forte sono convinto che con un allenatore come Ancelotti o Contis no con Ancelotti non lo so sicuramente con un Jurgen Klopp con un Guardiola ma anche con lo stesso Simone Inzaghi farebbe un sacco di gol Vlavic perché con l'italiano 40 gol Allegri meno di 20 un altro po' un motivo ci sarà c'è un motivo certo che c'è un motivo caro Gerardo e tu penso che lo sai dietro per me attaccarti forti sono altri io allora secondo me Holland che è un bomber clamoroso se viene nella Juventus di Allegri fa pochi gol anche alla Juventus di Allegri perché ha un gioco Allegri che ripeto non ci siamo proprio attualmente la verità è incerta forse coloro che criticano i giocatori della Juventus avranno ragione se la squadra non migliora con un nuovo allenatore ragazzi ragazzi quanti giocatori ha valorizzato Allegri in questi anni e quanti invece giocatori ha depreciato secondo me sono più giocatori depreciati che quelli valorizzati come hai visto questo primo tempo allora una partita molto tattica molto lenta non dico noiosa perché poi le nostre occasioni le abbiamo avute però tattica e lenta sicuramente Antox ha girato la nostra Juve la mia Juve la nostra perché è Juventino come me ha avuto più occasioni le due di Vlavic il tiro di Locatelli qualcosina in più abbiamo fatto loro hanno fatto solamente quella conclusione di Convlasi G-Testa ai punti forse meritiamo qualcosina in più noi ma niente di che ecco sicuramente sicuramente possiamo fare anche meglio stasera che mangi amico penso che mangi una pizza detto proprio sinceramente per non giocare di cucinare penso che c'ho sia la pizza quella surgelata che quella da bovore non me la posso anche ordinare dipende 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 cosa voglio vediamo un po' c'ho l'effetto è che la Juve gioca bene un tempo e male l'altro se quello è giocato bene è finito 0-0 vediamo un po' Itachi giocato bene un parolone abbiamo giocato meglio del Torino quello è poco ma sicuro ora abbiamo questo secondo tempo eccomi sono riuscito a riempirmi il bicchiere di Prosecco Valdo Biadene che Fonzis qua in casa ah con il Prosecchino proprio grande Federico ci sta c'è i tiri a Juve sono due cose totalmente diverse il tiro al PSG vediamo quanti gol fa il PSG ha fatto gol persino Ken dai Antox al PSG la mia stagione ha fatto Ken si ha fatto tanti gol Ken ma secondo te Vlavi cioè il PSG cosa può fare può fare solamente che divasti in quel campionato di francese che è scarso abbiamo uscito campo di pensionati eh io ti non riesco eh c'è un certo campo di pensionati sì Locatelli non era Juve in quel ruolo McKennie era Vio qualsiasi cosa lo sappiamo che il centro campo ragazzi è il nostro punto più debole e infatti la Juventus quest'estate è lì che deve andare a mirare i colpi di mercato al centro campo questa sera pizza adesso scendo che la vado ad ordinare e seguo la tua live tanto la pezzeria qua vicino ci sta ci sta la pizza è buona ragazzi per Napoli figuriamoci Antox almeno 40 hanno una toria decente a differenza di quel mediocre Allegri Alan fortissimo ma nelle parite che contro è un altro che sparisce sì però sparirebbe anche nella Giulia Allegri perché ripeto se tu fai un gioco difensivista dove prendete i palloni che ti arrivano gli attaccanti sono pochi poi ok se quei pochi che ti arrivano tu non li sfrutti è grave ma tu dai che ne so 20 palle all'Otaro l'Otaro ne fa gol 10 quindi ci fa gol 10 volte con 20 palle ma se a Vlavic arrivano quelle 5-6 palle cioè quelle 3-4 palle con la partita capisci che è più difficile per segnare davanti alla porta più dilusa segna solo solo i card senza scomodare Ola non lo metto in dubbio Gerardo ma Vlavic per me non è un attaccante forte e beh sono opinioni ragazzi che vi devo dire a un'ora le sue opinioni appunto il disposto Kostic vediamo vediamo al momento ha giocato Kostic vediamo un po' Alessandro se dovessero avere ragione alla lunga tu cosa dirai se avranno ragione alla lunga dirò che avranno ragione io finché non vedo Dujan Vlavic sotto sotto le mani di un altro allenatore non mi va di giudicarlo sinceramente Tegomota la Juve contro il Napoli così staremo bene entrambi alle ha 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 e beh e beh e beh e beh magari Gerardo magari Ola tecnicamente parli difensori che non ti fanno respirare tipo Cervi e Chiello perché non è uno che ti salta in dribbio come Kylian sì Oland è più un predatore di rigore però se poi gli devi chiedere di prendere palla partire dribblarti superarti segnare non è Kylian Bappé appunto se pareggio UTD United Godo ok Berlin Figeux se di Bonasola no 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 Claudio non sono di sono Marten scusa si chiama Marten io sono di sono di Genova sono Zainese ma sono di ho due case una ce l'ho a Bolsaneto e una di mia a Molassana una cosa che ricordo sull'episodio del pugno con un cartellino giallo ma come sappiamo il bar non può intervenire per i cartellini gialli tutto chiaro o no Massimo un po' chiarissimo com'è chiara la provocazione di chiara come ti pare di Gatti l'intimidazione questo è il replay solo del finale non è giustificabile comunque la munizione come 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 monito ci poteva stare per per la patta però non è evidentemente nulla di vabbè si ha preso un pugno ha preso un pugno i pugni si danno e si prendono comunque monoretz tegovotta comunque stare attento col contratto l'ho detto anche l'altro giorno nel video gli farei un curato di un anno con opzione per il secondo non mi sbilancerei perché è un enigma un anno più uno più uno no piuttosto gli fai due più uno perché almeno due anni di tempo gli devi dare a un giornatore per lavorare cioè non è che in un anno ti può subito vincere tegovotta gli devi dare tempo almeno due più uno gli dai due anni poi in due anni vedi cosa fai se ti cominci fai l'opzione del terzo domani fai domani fai sassuolo Milan faccio il post partita domani tutte le partite perché c'è il Napoli 12 e 30 c'è il Milan alle 15 poi c'è anche la Roma e c'è anche l'Inter qui domani giornata di calcio giornata di video alla retteghi scrive Bruno ho segnato Bruno Fernandes quanto mi rode eh l'avevi messo l'avevi messo marcatore segnasse Vlaovic c'è giocato Vlaovic anche domani voglio vincere io credo ancora la Champions dato che dal prossimo anno avremo 5 squadre in Champions tu pensa che se vince se non sbaglio se invece la Calanta o la Roma vincono l'Europa League forse possono andare anche 6 squadre in Champions forse eh forse non lo so non vedo una cavolata ma forse si 40 like quasi sì siamo a 35 ragazzi chi non ha ancora messo like magari metta like che 40 like sono vicini in realtà sono gratuiti forza ciao Dani ne abbiamo fatti la bezza di 14 Donnarumma ne ha combinato un'altra ma siamo sicuri che vi credo debba essere il suo bici nazionale ma io io forse forse spallettone inizierai a cambiare inizierai a cambiare il portiere però si sa che la nazionale a livello di portieri vive anche di riconoscenza e Donnarumma non perderà il suo alitolare non so di fare cappelle lo so non mi aspetto che vinca subito infatti occhio se prendono Conte però siamo tutti troppo convinti ma qua di fatto non c'è niente anche se dicono che deve firmare un precontrato con la Juve una volta ma vedremo ragazzi si sa che allora partiamo dal fatto che qualsiasi sia la squadra italiana che comprerà Antonio Conte se verrà in Italia sarà una delle pretendenti al titolo perché se Conte ti va al Milan o Conte ti va al Napoli e gli fanno anche un mercato fatto bene Conte ti sa vincere in Italia quindi tu sai che se Conte va in una squadra che non è la Juventus potrebbero vincere il campionato e se Conte viene alla Juve la Juve stessa può rivincere il campionato il problema di Conte è quando tu lo hai in Europa perché in Europa sappiamo che Conte non è un gran che il torno lo vincion derby Arcadi dal 2015 2015 se non sbaglio Vlavic l'ho giocato dopo il palo a ah ok non lo sapevo Dani perfetto ora capisco il perché la Dea ha tirato fuori qualcosa da tramandare ai nipotini è storia ragazzi è storia Anfield 3-0 storia 6 squadre in Champions Europa League e Conference dove vanno io avevo sentito anche 7 io so che se io so che se praticamente la allora tramite il ranking no tramite il ranking vanno 5 squadre automaticamente in in Champions ma se la sesta in classifica vince Europa League e quella sesta in classifica dovrebbe essere la Roma o l'Atalanta chi vince l'Europa League ha l'accesso diretto alla Champions fuori quella e quindi da 5 diventerebbero 6 squadre diventerebbero 6 squadre quindi attenzione 6 squadre in Champions magari vanno 2 in Europa e una forse 9 non lo so non so che funziona il ranking ragazzi no con 10 è impossibile ma no Vicario oggi ne ha presi 4 dal Newcastle beh colpa di Vicario però Dani non credo forse 2-1 Bormut ovvio non per il suo colpo appunto e allora Donnarumma è colpa sua si è preso contro il Barcellona in Champions l'uscita accelerata che ha fatto è qualcosa di clamoroso Pietro visto ora il fallo di Zapata su Gatti io ho appena toccato perché il nostro giocatore gli aveva dato una spinta Gatti è stato scandaloso sembrava che gli avesse dato una fucilata vergognoso Pietro poi Gatti ha già dato quel pugno sia a Kvaraschelia che a Giuric anche lui dai pugni quindi non ci sono state espulsioni in passato contro Gatti non c'è espulsione stasera contro Duvanzapata io lo dico tranquillamente Conte secondo me è un grande allenatore che deve fare però uno step in Europa ma le mie 6 scatte non mi piacciono neanche a me infatti Conte non lo rigore alla Juve come gioca la Juve il Moku gioca giochicchia ha giocato molto meglio del Torino secondo me ha avuto più occasioni del Torino ma giochicchia niente di spettacolare il real è ancora 0-0 l'anno prossimo voglio puntare di nuovo al titolo con Antonio se arriva Antonio è normale che sia così anche perché se non compri qualche top Conte non ti viene proprio infatti innanzitutto devi convincere nel progetto e devi dire che io ti comprerò tanto nel mercato e poi devi pagare tanto anche lui stesso Giardo vedi che potrebbero confermare Calzona non è una possibilità di escludere per me invece Calzona è una possibilità di escludere a priori Calzona lo rimarrà al Napoli occhio anche al Milan che potrebbe prendere Tiago Motta so che il Milan è più su Conte ragazzi e dalla prossima canata un unico giro della Champions sì il prossimo cambia anche il format della Champions ci saranno più partite ci sono tante cose nuove il prossimo anno ci saranno i Laper Club in estate Anto sarei contento lo stesso poteva creare un bel progetto no per me Calzona non è da Napoli a Gerardo non va bene Calzona cioè ora come traghettatore sì ma farci un progetto con lui no no Motta ha detto no al Milan perché aspetta il via libera con la Juve ha sentito il Clevert del Bormut bravo Gerardo non mi aspettavo questa risposta però Conte a DL due teste calde dureranno secondo me no Anto sai perché non te l'aspettavi spero che l'Arsen e il Liverpool rispondano anche perché i Rez hanno da farsi perdonare tanto ai loro tifosi dopo il giovedì scorso sicuramente è una risposta molto intelligente da un ragazzo non me l'aspettavo Anto se a DL ma Maria Geltrude buonasera quanto stanno 0 a 0 0 a 0 Maria 0 a 0 guarda piena un po' d'acqua intanto ragazzi arrivo lasciate like siamo in 28 siamo a 35 like ragazzi 40 like è l'obiettivo forza guarda piena l'acqua arrivo ok dicola lascia like 35 sono ci sia 34 eh non lo so eh non ci siamo altrimenti siamo con te anni abbiamo poca differenza appunto Gerardo ma secondo me alla fine arriva contro però la conferenza è una possibilità sicuramente l'ultima scelta di quella che farebbe l'Orentis ripeto che me calzone ragazzi non rimane a Napoli mio punto di vista la maglia di chiesa 7 casa troppo grazie grazie Gerardo eh beh io c'ho due di chiesa c'ho quella col 21 che va al 21 se non sbaglio il 22 cosa aveva di tre anni fa poi c'ho quella di Vlavic l'anno scorso nera col 9 e ho ripreso quella di chiesa quest'anno col 7 eh sì si nera ha perso ragazzi oh dai le calzone è stato con sali e spalletti qualcosa avrà imparato sì ma è un vice per me non c'è azzecca tanto calzone a Napoli la lista di l'Orentis è piano conte piano b a piano a piano b italiano piano c pioli piano di conferma calzone io di chiesa sta quella dell'Italia ah quella d'Italia di chiesa ci sta io quella d'Italia che ho è vecchissima ma non c'è nessun nome dietro eh tutti pizza stasera anche io mangio pizza tutti pizza ragazzi grande Dani calzone non è un allenatore scasso né forte la via di mezzo non è da Napoli secondo me eh da un Napoli scudettato che ok non lo è più perché lo vincerà l'Inter quest'anno ma prossimo anno non ripartirei da lui ah guarda quanto fa incazzare YouTube quando ho gli iscritti e like eh Violi manco morto ma penso che venga italiano a Napoli ragazzi buonasera alle amici buonasera Stefano lascio un bel like anche a te Stefano grandissimo anche il giallo resta al mio iscritti e attivate la campanella noi quasi ogni sera però io ho pranzato con ravioli buoni francetti e cavolfione il prosciutto buoni calzone allenatori di squadra di medio bassa classifica sotto io queste squadre qui esatto non da Napoli radino in dirà qua YouTube fa 35 34 34 35 sali e scendi qualcuno toglie e mette like o YouTube che ciocca Linetti 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 qua là dentro spazza Kostic c'è fallo c'è fallo infatti Zapata va segnato ma c'è fallo meno male c'è fallo c'è fallo c'è fallo c'è fallo meno male la Bino la Bino la Bino la sto seguendo anche se so che Parma sta quasi in A ma le altre candidate per la Serie A quali sono adesso so che il Parma è in A quasi c'è il Como che è alto però non sono informatissimo anche io Manuel la situazione è questa se viene Conte avete una possibilità molto grande di vincere il titolo con l'italiano invece dovete costruire un progetto per vincere qualcosa bisogna vincere per staccare Roma e Bologna si Palladino non lo vedo pronto per una big lo vedo molto meglio una Fiorentina in Bologna se certo che se italiano va al Napoli Gerardo libera un po' scuola Fiorentina e la Fiorentina chiamerebbe Palladino però Palladino questi due anni a Monza ha fatto molto molto bene siccome i Piolli si caga sotto andare là se tu mortano un Palladino pardone dai dai che se smenterano il gruppo lo scelto di poter dentro due anni speriamo comunque secondo me italiano non è ancora pronto più una big per me si sogno il Catanzani in A chissà mare fuori la serie così spero per te Gerardo Palladino a Bologna segnatevelo poi ci sta c'è anche Palladino a Bologna ripeto se va via italiano al Napoli Palladino andrà alla Fiorentina Locatelli Cesni un bel like ragazze alla live che è gratuito vi raccomando e belle iscrizione al canale perché è nuovo ancora Locatelli lancio lungo a cercare chiesa appoggio per Rabiot contrastato la Bellanova rimessa laterale per la Juventus oggi lo Spezia pareggia a Parma la Catanzani in A prima ma non so cosa pensare Ale comunque la zecca lega andrà via dai manca poco speriamo arriva morta la Juve speriamo però mi chiedo no il Bologna manda via te con moto e questa stagione arriva in Champions sono prossimo come l'affrontano per loro è già un sogno andare in Champions poi come l'affrontano Antox non è un problema è Antox Gerardo non è un problema già il sogno Champions spero dire tanto poi quello ci penseranno se a lei viene confermato mi arrabbio Antox Antox le bestie volano in fondo pure il Monza che ci puntava che serve per mantenere poi il migliorare di prossimo salto di due anni Paladino due anni col Monza ragazzo ha fatto benissimo sempre metà classifica mai rischiato di retrocedere Paladino ha fatto un ottimo lavoro Paladino col Monza Linetti col Torino attenzione filtrante per Vlasic tra le linee Boivoda Rodriguez pala l'indietro buongiorno Bellanova ancora Ricci Rodriguez cross di Rodriguez Bellanova Buccalaniro Bellanova poi non colpisce di testa scivolata di Kostic sul pallone guardaline non mi sembra che abbia segnalato qualcosa all'altro non mi sono accorto se abbia fischiato meno rimane diciamo la decisione forse successiva di Kostic per andare a contestare quel pallonarici bravo a crederci è molto simile l'entrata di Locatelli nel primo tempo è estremamente dura lo prende questo è il fallo di Kostic ragazzi non c'è bisogno di entrare così ragazzi non c'è bisogno di entrare così non c'è bisogno di entrare così e qui l'ora ti rifaccio lo stesso discorso tu puoi scegliere come intervenire è chiaro che Kostic ha la percezione di poter arrivare sul pallone se tu scegli di fare le rossi rimanere a Roma probabilmente sì per quello che sta facendo sì anno prossimo Monza in Confidence League segnatevelo addirittura il pallone sta ripercorrendo quanto ha compiuto la Dea qualche anno fa esatto bestemmie nuova butterei giù casa garantito sblocchiamo la forza speriamo perché siamo ancora bloccati sullo 0-0 eccomi sono andato a riprendere i piedi del prosecco e piatto con Fonzi e Sperantino è grande grande Fredigo fissatelo De Rossi arriva in Champions e vince l'Europa League chissà ma là dentro usa parla di testa si gira Vlavi Svlasi c'è la parla di mano ancora lì cominciamo a spazzarla è nostra calcio d'angolo niente non è nostra scherzavo il fatto stesso che le intanti vediamo quanto non si c'entra la Champions si resta male insieme di quanto si vabbè ormai le aspettative sono alte ma sono altissime se De Rossi arriva in Champions e non lo confermano gli farebbero un torto enorme ma va confermato ragazzi De Rossi vedete cosa sto facendo vai vai da palla dentro spazzalo di testa Giochovici battuto da Raud da Raud pare che Scesmi vada via sia pronto di Gregorio vedremo Stefano Sine giustamente va da Tipsa si ho letto che ha perso Sine dov'è Filippo Ferroni che ne so Cristian era l'unico che diceva che le Rosse avrebbe fatto bene alla Roma tutti scettici si ero scettico ero molto scettico e mi ha fatto di credere invece no non ci credo dimmi che è tutto vero Dani Giochovici out Giardo c'era il doppio fallo del greco di 15 centimesi sulla doppia palla Brixin ah il nostro cavallo pazzo è tornato in un omino come tre anni fa pensa solo alla nazionale della Juve gliene frega meno di zero infatti io fossi la Juventus non rinnoverei Rabiot cioè io fossi la Juventus fare ciao ciao Rabiot e basta ragazzi Canieco appunto avevamo ragione sul torto arbitrale potrebbero arrivare il suo giocatore Cugmander Filippina si troppi giocatori tutti non arrivano tutti non arrivano Stefano la Juventus non c'ha tutti questi soldi e Piera 1-2 si no ma non arrivano sì salve al mercato da 10 ma non arrivano mica tutti ragazzi i soldi non è un mercato da FIFA bisogna guardare in faccia la realtà Stefano di Gregorio dal posto di Padilla fa il secondo portiere eventualmente ma il greco calcola Dani che prima di oggi non aveva perso neppure un set persino era dimostrato di quanto sia un rivale durissimo lo so Gerardo Locatelli cambiaso dai ragazzi sblocchiamolo un po forza 38 like ragazzi meno 2.40 like vi raccomando un bel pollicione si arriva a 40 quota 40 vicino anche Zaccani da Lazio non è che mi faccia impazzire Zaccani secondo me è meglio di Felipe Anders se non si rompe Sanabria porta palla attenzione Sanabria mi è fermato da Cambiaso però riesce ancora a dare la partita attenzione Costic Cambiaso Cambiaso Chiesa non riesce a servirlo Cambiaso ancora la Juve McKennie McKennie Dujan Dujan non passa con Dujan Bremer Cambiaso ragazzi si è fermata l'azione rallentata mi è caduto che farete la Juve Ferguson a posto di Rabiot è un difensore buono a Calafiore e a posto di Exano dimmi se che ne pensi ma sì ho Ferguson ho Cup Miners sicuramente ci vuole un difensore tipo Calafiore ci sta tra quelli più caldi non mio in ottica Juve io penso che Calafiore e Cup siano quelli che salono di più Calafiore e Cup Miners sono i migliori secondo me caro Manuel attenzione qua bella 9 sulla destra mette il turbo Antrox sui 150.000 la volta mediando via questi portinagli di Corsi subito 13 non via scommesso giocatore di M e Manuel mi avrebbe fatto molto facile e poi anche i crampi gli sono venuti a me Anderson piace Rega che volete no non è un giocatore però è la riserva Juve non è un titolare sono la Juve deve fare una riserva guardate lai che si è alla Juve siamo a 39 quindi chissà 38 beh erano a 39 38 dai che 40 manca poco ragazzi sui 30 non i corsi c'è tantissimo e beh di questo costi si chiesa 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 punta chiesa Danilo chiesa tiro ribattuto eh niente ragazzi il Torino si chiude bene il Torino si chiude bene nella propria area a Cimera Luce chiesa si da sinistra si trova in quella zolla quella zona naturale tra una sponda strana non un attaccante ma Danilo che era andato a occupare l'area è stato fatto Danilo eh a un po' c'è la conclusione che sarebbe stata da vedere la direzione che avrebbe ma vedo molto cittismo su Anderson fa anche gol viene zero a questo giocato secondo me poi vediamo il contatto che deve essere giurano non di più ma no cittismo no se fa ripeto fa la riserva che è quell'uomo che quando ti serve lo butti dentro ci può stare da titolare no cioè non ha Juventus del futuro non lo vedo titolare io Anderson hai su lei hai chiesa perché hai giocato Felipe Anderson perché su lei tornerà ragazzi quindi Fabio Locatelli Bremer Radio Locatelli Blavic Spolla per Chiesa Chiesa filtrante bello retro passaggio per Milinkovistavic poi ancora qua il Torino Tamez Tamez filtrante a cercare Bellanova che ci arriva Bellanova velocissimo palla dentro sul secondo palo Gatti la liscia un pochettino la palla passa e poi McKennie la spazza ma la palla esce tu stava tu stava coordinando Blasic per cacciare tu sarebbe stato complicato ma Giordino ma l'idea è ora colato in quel cetocampo di scarsi ma guai che non fa il cetocampista lui intanto Felipe Anderson non ha la destra quindi lui può fare l'ala destra l'ala sinistra e la punta o la seconda punta non è un cetocampista Felipe Anderson quindi non c'entra niente a cetocampo se ha gente come Ferguson sono un po' come Cup Miners piuttosto anche Lino è un altro che a Giugno deve fare le valigie e andare via non andrà mai via Daniela Giugno è capitano e pensa che Berrettini si fa male quasi all'unione o almeno Sinner succede ogni sei invece di avere qualcosa imprevisto invece Alcalas per Locatelli vediamo 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 Bruno Tiro di Ricci intanto la palla che mi è deviata quindi esce ah io ti seguo da Juve 0-1 Empoli due anni fa eh brutta Juve quella allora brutti ricordi caro caro Gerardo capitano di sto cazzo deve essere Scesni ma Scesni non l'ha mai stato capitano purtroppo la fascia non gliela danno palla dentro su questo calcio d'angolo spazza Bremer di testa ancora il Torino che adesso aggredisce Alcalas non lo riscatti sicuramente costa troppo Alcalas lo guardavo per la banda tiro di Ricci va tutto da Bremer ancora poi Bellanova cross dentro colpo di testa di Sanabria e Scesni fa un miracolo la prima parata del suo derby è una paratissima perché cross ancora con Bellanova invadendo Bellanova cross dentro Sanabria di testa l'imbalzo non facile facile Scesni farà meno male ragazzi meno male meno male non si è che deve portare la giunta che è un gran portiere ogni tanto c'è quelli sui papere quali sui paperate però un gran portiere molto veloce e schiacciato alza il volume e la maratona io posso solo che imparare da voi se le mie vite mi avete dato la spinta a venire a creare i video ti ringrazio Gerardo questo è un messaggio che fa veramente molto piacere che non gli spunti agli altri mi fa piacere bremer spazza via di testa locatelli sabio danilo dai ragazzi forza costice guarda avanti provato a muoversi chiesa gioca vicino solo cattelli che ha solo per andare in applausi che usa il fisico meccanio aspetta gatti filtrate per lucian 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 pallone pallone d'oro c'è un grande da quando avevi 5 anni 5 anni così che 5 anni cosa era youtube mancano quegli iscritti in più però dai impegno ce lo metto dai piano piano e la gara di app inutile di sempre tra l'azzo serenitana con pure lasciocanti parole del mago nel post match che anzi così si è reso molto più utilizzante di 90 minuti attenzione ma mi ha cambiato qualche repere meno male comunque questo alberto è stato un fulminaccio del sereno è quello che ha detto di salberto ragazzi è un lì sabato la juventus visto che riesce nel contratto di noi i canali i canali i canali per l'aiuto è nata al 200.000 dai piano piano ci ha si vede tecna il meglio giocatore della juve 35 su 38 te la gioca ad altissimi livelli non lo sottile ma con nessuno manco con magnan magnan guarda l'unico problema di magnan sono gli infortuni perché poi magnan è più forte però non di tanto è sceso un grandissimo portiere salutiali stiamo che ciao vilario buonasera pedere milico vissavi ci risalberto in un solo anno che vota con la razza e attenzione immobile perché prenderà anche immobile il prossimo anno nella razza ci sarà una vera rivoluzione ragazzi segnato segnato bravo vicino danino e il mago alla juve ti esalterebbe la mediana mi mi a chi lo mamma mia a faccia magari il mago alla juve magari il mago al napoli consiglio di si ok occorre qualche cambi per alzare qualità pallaterra ridosso delle punte si emiliano i cambi rimano adesso i cambi rimano adesso escono costice chiesa ed entra il ildiz e ildiz dirin junior le tre punte le tre punte sia mai allegri le tre punte le tre punte sia mai se entra ildiz deve uscire chiesa perché le tre punte non sia mai non sia mai dai devo interrompere la maledizione della cegli che non incassa e non va bene il mago alla juve è un sogno del cassetto appunto i mobili a napoli come suggerito di osimè dell'orentis mi vengono conanati di vomito solo a pensare il mobili è ormai il giocatore è finito ragazzi non puoi sostituirlo con il mobili di osimè e via osimè con il mobile dai mi salve riscinde il contratto un volito permettendo si si riscinde il contratto cioè speriamo che vinca il torino per noi lupacchiotti eh l'aria spero che vinca la juve giustamente anche il ring è calato nel rendimento rispetto all'anno scorso perché il ring c'è la rivalizia pronte il ring andrà via però se il signor Alevlavic può vincere il pallone d'oro il pallone d'oro no salute a domani ciao Stefano a domani comunque questa estate possiamo fare il mercato e con 130 milioni di osimè si farà una squadra sicuramente Gerardo devono essere spesi bene però palla dentro che la Juventus in qualche modo spazza poi c'è la ripartenza McKennie 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 palla per Rabiot troppo lunga c'è la nuova che copre come sprecare i contropiedi fondamentale per tagliare la traiettoria di corsa di Rabiot spero che non vada via Crevara però ma Crevara non crede che vada via il prossimo anno quasi tra due Romani fai una polifusione si ne avrà da fare il prossimo corso del Napoli stavolta Della deve cacciare i soldi per puntare a rotare almeno per le due o tre posizioni si infatti Brasic tiro poi va tutto ancora il Torino Rodriguez palla dentro spazza Gatti di testa Rabiot spazza in qualche modo Cambiaso Bremer esce bene Locatelli anche se fa la Fiori che dovremmo prendere mi chiedo che senso ha se poi gli fa fare il lapire di Sule per evitare Rovello ma non gli farà a quella fine perché se le viva via ci sarà un giocatore che lo valorizzerà dopo la Juve quale squadra che ti sta più simpaticamente in fine secondo me è Genoa Genoa è Santa sono le squadre della mia città quindi simpatizzo loro simpatizzo figlio così si valorizzano i calciatori fuori chiesa che stanno giocando bene si tiene Rabiot e Locatelli che non passeggiano che passeggiano nel campo ragazzi la partita come sempre tu la devi vincere e non mettere tre punte quindi Rovella comunque non era da Juve almeno da Ritulare inorganico pure a me era Lazio con il suo rispetto tra due catali non vedo grande differenza no era magari un sostituto da Juve a Ritulare no un sostituto così guarda metto il Derry vedi io domani le faccio 1330 21 al lavoro ti perdi tutto ti perdi quindi passeggiano togli il non si passeggiano voglio morire immagino ma la Juve ce l'ha i giovani non c'è bisogno calafiori cala girassoli secondo eh c'ha Juusen però un calafiori non lo butti via eh settore di lavoro pesante quali sono i ruoli che la Juve dovrebbe investire per la persona stagione centrocampo centrocampo sicuro il centrocampo è la prima cosa ragazzi siamo attenti tutto like mancano due like e 40 diciamo arrivarci 40 prima della fine della partita proviamoci 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 non è impossibile non è impossibile Bremer Locatelli cambiasi beccani danilo palla dentro troppo lunga per il non ci arriva facciamo sti cross fatti bene però ragazzi dai su no no calafiori ormai difende benoni imposta si sa difendere sa fare anche un cittocampista calafiori si sa fare tutto c'è che ha molto ha trasformato anche se si è preso ad una cifra decente non ci starebbe poi così male si è vero infatti la juve sfonda anche il terreno per zilse 40 like grazie mille ragazzi saliate a 40 se nessuno lo toglie siamo a 40 grazie mille giallo per cambiaso grazie mille a munito capiaso per evitare che vada dove da regolamento arriva la munizione di maestro 0 a 1 suameni manca il secondo gol forse per me ad euro 24 dietro ci porterei ace basto buongiorno alla pietra e mancini alla pietra e solo america la comunicazione forse casso qualcuno speriamo speriamo comunque l'italiano c'è anche il torino ma l'italiano non fa un downgrade perché dalla fiorentina passa dal torino è un downgrade l'italiano va a fare l'upgrade quindi andrà al napoli se poi voleva andare da qualche squadra se guarda trovate che vanno alla fiorentina a prendere al torino parliamoci al piano ragazzi Linetti Ricci tiro di Ricci ribattuto ancora il torino con Vlasic Rodriguez palla dentro spazza Bremer non benissimo che migliore della storia nel football secondo te secondo me io secondo me Pelé ragazzi orei 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 due ale over due e mezzo speriamo Dani lo spero per te dai per me Pelé è migliore ragazzi la fiorentina bene o male si conferma da compone da tre anni i metitori non sono anni che non c'è nessun prezzamento europeo esatto lo tipo venino secondo tempo inesistenti mi sa che sto derby non avrà vincitori secondo tempo bene secondo tempo male a parte giù di Vlaovic male e infatti ma io è sempre così giochiamo sempre un tempo giochiamo sempre un tempo ragazzi sempre un tempo Lebron James sindaco di Niccolò Barelli come dargli torto raga si parla di Lebron James ragazzi secondo me il migliore della storia è Cristiano Rocco e Pernaldo Cristiano Ronaldo è il mio preferito però per me il migliore nella storia recente se parla della storia del calcio in generale dico Pelé Pelé è il primo sempre detto che Torino è bianconera vabbè Albe per i derby vinti a livello sportivo sicuramente sì dobbiamo prendere anche una punta vera un velo nuovo abbiamo attaccanti che fanno ridere la punta vera ce l'abbiamo Antoc si chiama Lucian Blavich non ci serve una punta una metamorfosi offensiva per Allegri fuori prima chiesa e adesso Blavich per l'inserimento di Ken calcio il principale per il Torino perché Locatelli ha fatto fallo che strano comunque mi sa che esce 0-0 se continua così vediamo se muove palla anche in questo caso la squadra di Juric non lascio stare Antoc non lascio stare le piazze Kevin Durante nel basket per l'Alzheimer i primi 6 non lo so primi 6 non lo so sai io arrivo la parata di Shesny centrale meno male perché invece il primo per me è Michael Jordan poi c'è Lebron James poi c'è il popolo Kobe Bryant come terzo poi c'è anche Shakhin O'Neill quarto c'è Kerry che è fortissimo c'è Rose c'era Rose che era forte del Chicago Bulls c'era Carmelo Anthony che era fortissimo pure lui e Kevin Durante è fortissimo anche lui sì magari lo metto nei 7-8 nella top 10 sicuro Blavis mette giù bene questo pallone poi la dà l'indietro per Indiz Indiz trova Danilo Danilo Filtrante spazza Torino calcio d'angolo no c'è fallo e adesso il Pullman davanti alla porta per dire il pari può succedere che il Toro verso il novantesimo segna come è successo con la Lazio sta a vedere Magnan ha ottenuto di Sassuolo ahia infortunato secondo te quanto finisce la parietà io vorrei 1-0 Juve ma se continua così potrebbe finire anche 0-0 su Blavis mi trovi totalmente in disaccordo forse è l'unica cosa in cui non ci dobbiamo da eh già di sì questa cosa qua Antox sono molto diversi Harry Bird di Boston anche anche ce ne sono tanti c'è che Vingurante è forte ce ne sono tanti due ragazzi Wade c'era anche Wade delle Miami che era fortissimo Wade cioè ce ne è tanti ce ne è veramente tanti sta entrando il robot Moise Ken adesso Moise Ken come ha detto il sugo al novantesimo segnirato c'è una bella nuova palla dentro ma ragazzi spazza di testa poi McKennie qua c'è fallo ma l'abito lascia concedere la palla è nostra contropiede il troppo sbilanciato dai Rabiot Ilditz Ilditz punta si accentra tiro la parata di Milinkovic su Kenan Ilditz non ci credo ancora Milinkovic ancora Milinkovic ma non aperta su Ilditz che palle io credo che Vlavic vorrebbe vincere la Champions con la Juve per carità ma dire ma è davvero dura la Champions è veramente dura forse anche qualcosa di più perché si tiene la parte posteriore della coscia sinistra che quello fa alzare lo fa entrare 20 minuti dopo come sempre il vice 3-0 per la Juve trippetta di Ilditz e riguarda la mia storia non ho mai capito come potesse essere tanto l'impatto mazzerco con i suoi bucassini CM mamma mia ragazzi Ilditz era anche stradeviato il tiro la parata Ilditz 41 like ragazzi vi ringrazio e niente c'è anche il giallo per l'inetti intanto quello della Juventus aspettato dunque per non sprecare uno slot Allegri entreranno Ken e Alexandro al posto di Vlovic i ticatti si sta scaldando anche i rugani e comunque la sostituzione la vinceremo la Champions nel 2047-48 sì come l'algoritmo ha detto come l'intelligenza artificiale cioè nel 47-48 significa che io che sono nel 2023 cioè nel 2024 siamo a 34 44 24 anni tra 24 anni quindi la Juventus vincerà la Champions quando io non avrò 54 cioè praticamente se guarda l'intelligenza artificiale se ci arrivo io a 54 anni mi verrò a vincere la Champions alla Juve a 54 anni sarò già nonno se va bene pesa dopo voi come il dice un po' grasso in che senso tra Bayern e Gunners chissà cosa definisce quella lotta molto bella partita sì io mangio ciao ciao Dani buona cena io continuerò a dire se un cambiatore qui non si fa più eh lo so c'hai ragione Alde io sono da quello con te infatti spero che venga venga cambiato olè esce gatti ed entra Alessandro un'altra presenza in più un'altra presenza in più ti vince la partita e togli Alessandro poi fa uscire Vlaovic per mettere Ken sempre attacco a 2 mai le 3 punte siamo 0 a 0 ragazzi 0 a 0 e non si fa nulla non si fa nulla insomma ha lasciato un paio di occasioni importanti in questo tempo in questi momenti di Gese vincere quest'anno la Champions vincere al Barcellona eh ancora il Barcellona può passare il 6 di finale qui attenzione oddio dai lo conosci Liga 2 sì lo conosco il cantante cosa mangio di buona stasera questo mi faccio una pizza ho la pizza congelata in frigo è una pizza mamma finisco la live faccio il video e poi mangio mentre mi guardo la partita di stasera chi gioca stasera più stasera non mi ricordo neanche più io un po' più di qualità è uscita Gatti è stato interpretato di quel delonabo col Monza non mi ricordo chi gioca stasera ragazzi non mi ricordo Healing 1-2 con Illiz ancora Illiz Illiz Locatelli Danilo ancora Illiz la dà per Abbiò palla dentro per Abbiò Rodríguez di testa spazza Danilo Cambiaso cross dentro esce Savic Locatelli Illiz Cambiaso Cambiaso Alexandro Danilo tira tira niente niente buongiorno che la carica al portiere non era carica di Savic non era non era che non volontario struge adesso c'è cantarsi amico mio Alexandro porta pure Illiz infatti ci manca Alessandro De Gani non capisco perché sta alla Juve forse umiliare confermo che Lega è un pelato lo segue tutti i giorni non gli crescono mai ma lei chissà lascia sta che è pelato deve andare segnale alla Juve prende un po' di fiato Alessandro buongiorno si prepara un altro rilancio lungo Mania Milenko Mizzavic dieci più recupero alla fine del termine adesso Chereke davanti nel toro con Duman Zappata che messaggio Antox qual è il dirigente artificiale l'ho letto ho anche risposto altri non lo vedo Antox e dico Papi no Sarabanda lo faceva ieri ho creato su Rambo 3 un film fantastico secondo me vabbè Rambo ragazzi non si veste stallone è un capolavoro occhio Lazaro riesce a giarsi bene su McKennie e allora Vlasic mancano dieci minuti ormai nove il tempo è poco il tempo scorre e se non vinciamo domani Bologna Roma e le altre squadre possono far male il ritiro l'ha fatto fuori dal valo con una dichiarazione ma vabbè ma Antox ma Del Piero non può parlare non può dire quello che pensa sono parole di circostanza attenzione ancora qua Torino Netti perde palla poi anche Damino se la allunga merda beh un domani un domani perché no si era con la dieci a Pogba che non ha mai giocato cioè perché non può più alla Illiz Tamese Zapata niente minimale Alexandro sbaglia olè mettiamoli in campo mettiamoli in campo tanto Rodriguez spazza la Juve Illiz è molto forte adesso comunque con la stanchezza della partita per buongiorno Ken ma la invece deve avere la tecnica non è elegante ma la tecnica a volte non manca neanche dipende si la siete con lui Salmetto lascia la Lazio Cristo ho sentito dai su aumentiamo un po' sto ritmo bene dai che danno vincere la partita è un derby totalmente in bilico a 7 più recupero dalla fine con l'aiumento che parte dal basso ovviamente nella post partita mia un po' mia un po' ma è la parola guarda stasera il nuovo c'è ne frega il cazzo da un punto va bene poi si vincono quelle sotto una tecnica non c'è la come ildis ma zero tecnica non è vero alla fiorentina ha dimostrato che tecnica è una parecchia soprappone avercelo noi i bravi c'è immagine il genio Rodriguez palla dentro Zab che ritesta prolunga la merce arriva cross calcio d'angolo per il Torino certo perché tu devi andare a vedere cosa ha fatto con la fiorentina perché con la fiorentina era un giocatore con la juventus è un altro perché c'è questo allenatore di merda in panchina sta andando male noi 0 a 0 e siamo calati secondo tempo molto meglio primo tempo molto meglio secondo male non che il Torino abbia fatto chissà cosa ma ci stiamo accontentando di un pareggio e la cosa vi dà abbastanza fastidio sai che è bello leggere la notizia che la Liga è stata esonerata e venite con morta ma magari 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 non va bene per voi della Roma va bene per noi no seduto è veramente esaurito della nuova il Toro metterà Masina due scampoli per lui nell'ultima 2 dopo averne fatto i 6 di fila la titolare come centrale sinistro lui potrebbe anche fare il laterale vedremo se si piazzerà lui nel terzetto di Juric a prendo Rodriguez se invece andrà a vincare la parte se Alberto vuole andare via devono portare i soldi non può svincolarsi e vengono 4 anni di contratto ma io ho detto lo titolo che se vuole andarsene se ne può andare e la GL dietro lo sportivo credo che i contratti vanno rispettati ma se un giocatore di ragazzi vuole andarsene se ne va perché tenerlo contro voglia è inutile entra Masina ed entra su un calcio d'angolo attenzione perché Masina nei colpi di testa è molto forte ma quasi sei nato e andare bene a posto di Allegri non esageriamo con Guardiola perché non arriverebbe mai però ma là dentro c'è il fallo c'è il fallo su Cesni qua Masina travolge Cesni il fallo alla fine conta quanto dice il capoccia e la capoccia della Lazio si chiama lo titolo intanto la Juve segnerà con la fortuna al novantesimo qua l'ultimo secondo sì 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 allora vengo io dai eh faresti forse meglio di Allegri guarda ad abbracciare ad abbracciare il suo vicecapitano intanto è espulso Iuric da quelle proteste ma infatti è stato un carterino rosso è espulso Iuric per proteste anche me la nuova l'abbiamo visto protestare vedendo un fallo di mano mentre Cesni sicuramente ha subito gli effetti del contatto abbiamo visto sangue sul volto del portiere perdo sangue Cesni certo che ci sarà un'altra rivoluzione a Lazio in estate assolutamente sì Lazio cambia la faccia se Luiz si svincola a zero avendo quattro anni con loro si creerebbe un caso senza precedenti dopo ogni giocatore potrebbe farlo vedremo Eugenio cosa succederà Bravi ci mangia troppo Alessandro prevedo lo script del 90 a fuori del Torino vediamo ma la Juve giustita dai giocatori non andrebbe bene il guarniatore alla Juve serve ragazzi fa scaldare Perin perché Cesni perde il sangue dalla bocca dal naso non lo so perde il sangue perde il sangue Antox rieco di Claudio ma no ma io Blavis lo tengo volentieri delle Antox che lo disprezza ciao Claudio credo di entrare Alcaraz al minuto 87 così Giudacco ha preso tanto negli ultimi mesi già erano in luce calato dal 2021 perché lui stesso sembra un don di facili costumi e la carriera con comportamenti da testa di me si Lukaku sta calando sempre di più ma quanto manca due minuti più recupero un grave fallo di gioco perché della zero che serve a niente come se avessimo perso praticamente esatto esatto però sicuramente un colpo infudente come sappiamo anche i colpi al volto sono particolarmente ulteri ciao geniale il mio coi ventino che sono iscritto perché è bravissimo e lo voglio molto bene grazie Claudio grazie che falle ragazzi chi gioca stasera ragazzi fattamente locali che non mi ricordo che partita c'è stasera molto macchiato di sangue dunque dovrebbe essere rifulito continua a perdere sangue dal naso il quartiere della Juventus un minuto più direi 5-6 direi per giocare la forza che forse è grande il minuto di Alcaraz è come quello che danno ai cerchi carcerati l'ora d'aria esatto Alessandro mi arrivano sulla mia e-mail degli annunci di lavoro per lavorare da Amazon secondo te ti pagano bene ma se i magazziniere pagano il normale mille qualcosa mille 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 cento credo non lo so a questa partita si è capito che poteva vincere solo la Coppa Italia ma sì sicuramente forse forse manco quella vinciamo stasera a Bologna a Monza bene stasera a Bologna può prenderci due punti allora stasera a Bologna può prenderci due punti perché se pareggiamo sono due punti persi mio padre tifoso sferato della Juve bravo tuo papà buona Monza grazie 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 anche se c'è la Bologna perde abbiamo guardato un punto secondo ragionamento di Allerio sì ma deve perdere però Pietro se non perde vince sono due punti che prende Bologna Bologna fa 3 a Monza 7 di recupero alla fine potete appunti vantaggio di Asciuga sta facendo il bilancio di Ponticini per giufare il terzo fatto posto allucinante guarda cosa scandalosa cioè le posso solo per un saluto per ugare a tutta ha lasciato un gol del Toro si dà la tua ogni volta che passi la Juve prende gol quindi a posto Valentino il Toro segna segnatevo il Toro segnerà ragazzi è finita siamo a 0 Alice in ultima squadra decente potrebbe farne anche lui gol sì ma noi siamo una squadra decente il 2 4 healing fissante per Ken niente Ken non ce la fa scappare a buongiorno eh non può andare così Valentino può andare così io voglio con il minimo 1600 euro al mese basta 1500 1600 euro al mese non lo so 1700 è troppo alto secondo me per Amazon magazziniere noi abbiamo cosinone domani è un po' di donna vediamo un po' domani le partite ragazzi no il Granata no ma neanche a noi Linetti palla dentro lunga se speriamo che gente come Ken faccia gol siamo in alto mare quello non segna neanche se la partita finisce sarà da prossimo ma è a leghi che vede sta gente è a leghi che vede sta gente 42 like ragazzi grazie possiamo anche arrivare a 45 forse grazie mille per il supporto lancio lungo verso Ken buongiorno lo marca bene allora poi la BIO c'è il fallo i Linetti sulla BIO in generale la Juve castiga gli avversari negli ultimi minuti e lo so però non ti può andare sempre bene Eugenio lui ha già fatto chiaro senza Europa bye bye esatto il pareggio a fine campionato serve a nessuno che non segna manco se Savic si leva dalla porta fino alla 0-1 alle Fiat ti vediamo Claudio mancano 5 minuti ormai neanche quindi però che palle ragazzi che palle ogni volta se con un tempo ho fatto meglio il tempo ho fatto peggio che palle che palle ogni volta sempre così anche Udinese segna gli ultimi minuti ho 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 20 è tremendo 2-2 United Godo Basina palla dentro spazza Danilo attenzione perché la palla rimane lì Lazaro Lazaro c'è non ha mai messo l'attacco a tre non lo mette mai 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 l'attacco a tre non lo mette mai se 0-0 devi vincere non lo mette mai adesso come una Lazio fuori dalle copie ci sta fuggi fuggi che dovrebbe andare all'europeo con spalletti chi ma figuri ma l'europeo che c'era un periodo che stava andando abbastanza sì i primi tempi andava bene che poi basta sparito ma che come può segnare sempre solo in avanti l'interparata che a parte allora lo stesso ragionamento Pietro va per Vlaovic come fa segnare Vlaovic davanti se è da solo sta sempre lì occhio Linetti palla dentro Lazaro di testa alto sopra la traversa vicino al gol il Torino vicino al gol il Torino vicino al gol vicino al gol il Torino Idin Junior da dietro si perde Lazaro che di testa la manda meno male meno male meno male meno male c'era c'era un'abitudine di andare a chiudere questo tipo di situazione non c'ho voi a giro ti fa la razza molto molto bene come sei Claudio la razza cressano milioni invece di voler Napoli brivido appunto viene bricolosa contro di noi più gente come Zapata questo arrivato al Torino con le stampelle degli antirolinici ma di che stiamo parlando se faceva gol Lazaro allora spegniamo la tv vedere le parite di Champions e poi vedere il Torino Juve bene Cristian tutto bene 45 like ragazzi vi ringrazio grazie mille per il sostegno 50 è impossibile però già 45 like è tanto se segnasse Toro sarebbe col colmo eh sarebbe colmo sì come come già successo nel finale contro la Lazio due minuti due minuti allo scadere ole 0 a 0 Belin Belin Fijot 0 a 0 col Torino che partita eh mia mia un po' aspetta dall'altra parte ma porca miseria porca miseria porca miseria porca miseria Locatelli non torna da lui passa di nuovo da Brenner Locatelli comunque Locatelli in quel certo campo è la luce sì la luce è sbiadita mamma mia la fastidura sarà nel mezzo secondo me le sentenze ci dice arrivare almeno nel primo quarto se segnasse Torino non sarebbe il colmo ma un ennesimo segnale per la Juve che devono cambiare tutto allenatori innanzitutto Oswald ha rotto il portafoglio di azioni per investire le allenate solo per questa vita stanno 2 a 2 aia ma gli devi dire che è un buon risultato che abbiamo preso un punto sulle inseguitrici non può dirlo perché le inseguatrici devono ancora giocare non può dirlo è quello che mi fa incazzare Patrizia partita tra due allenatori che sono all'anti calcio ADL ha detto che se non viene conto italiano potrebbe puntare alla Lega se viene a Lega di noi non so più il calcio ma Lega a Napoli non credo proprio Claudio sei tranquillo che non arriva 48 like da 45 a 48 grazie mille ragazzi ora a 50 ci si può arrivare manca un minuto anche 20 secondi per la 50 è difficile vorrebbe avere 50 like quando la stacco ma è difficile sono a 48 manca poco Allegri una furia Allegri diventa una furia solamente quando arriviamo nei multifinali una furia Alcaraz McKennie Rabiot c'è spazio portala portala tira fai qualcosa ma poi sta a portare a Biot healing healing ma guarda anche ma guarda lì ma fai un culo vai ma fate qualcosa anche healing che si incestica sul pallone il rabbio che non tira ma svegliateli 50 vi ringrazio ragazzi scusate la sfogliata 50 like ragazzi grazie mille è finita 0 a 0 bello schifo 0 a 0 difendiamolo 0 a 0 difendiamolo non mettiamo le tre punte sempre 3-5-2 esce Bravici entra Ken esce Chiesa ed entra Illiz pedina per pedina non si cambia modulo 3-5-2 bisogna vincere 0 a 0 e adesso le inseguitrici devono ancora giocare bravo Allegri complimenti 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 ancora ma quando è che te ne vai quando quando te ne vai quando manco un derby adesso ci fa vincere ci ha negato pure la gioia di un derby ci ha negato pure la gioia di un derby ci ha negato manco il derby ci fa vincere veramente veramente che schifo che schifo ciao Marco buonasera va un po' meglio come vedi sono un po' più sgonfio sono ancora un po' gonfietto qua piano piano sì Allegri sì Allegri Alexanon se lo scopa scusate scusate proprio Allegri scusate proprio sai quando mi arrabbi divento anche volgare ma Allegri ci fa qualcosa a letto qua Alexanon perché se no non si spiega ma vai a cariare anche te ma vai ragazzi grazie mille per il supporto per i like iscrivetevi anche al canale se vi fa piacere che comunque anche quello è gratuito non costa nulla supportati almeno in questa maniera perché veramente la Juventus mi sta facendo sperare stasera la Bologna ci prende altri tre punti altri due punti 0 a 0 e niente ragazzi buon per la Roma buon per la Bologna si vinceranno queste partite bravo il Torino che si è preso un punto che non serve niente neanche al Torino e niente ragazzi stacco che vado a fare il post partita non so con quale coraggio lo andrò a fare però mi raccomando passate anche dal post partita che lo vado a registrare e grazie mille per il supporto veramente ragazzi buona serata buona cena a tutti 54 like veramente ragazzi grazie mille e niente vi saluto ragazzi buona cena vi voglio bene a tutti quanti e allegri sempre out come sempre perché ha scassato le scatole basta ciao ragazzi a tutti quanti grazie a tutti